eccoci a bilbao nella piazza dove si fanno gli aperitivi e si prendono i pinchos qui invece siamo alla cattedrale siamo nel chiostro della cattedrale di bilbao saluta saluta chiesa di sant'antonio bilbao è costruita sulle sponde del fiume nervion che poi va a gettarsi nel golfo di biscaglia ci sono punti innovativi e architettonicamente interessanti che collegano la città da una parte all'altra come si chiama? dillo tu è il Puppi come si chiama questo ponte? come si chiama questo ponte di biscaglia? dobbiamo è il Puppi è il Puppi via il Puppi Buon appetito, buon appetito! Il Burales di Guernica a Guernica Paese. Questa invece è la chiesa di Guernica, ricostruita in gran parte dopo il bombardamento. Questo è il paesino di Vietaria dove è nato Gustavo al Valenciano, un paesino minimale di pescatori. Adesso entriamo nella chiesa. Questa è la spiaggia di Guettaria. Non male. Siamo a San Sebastiano. Dillo tu. Alla Playa della Conca. Dove siamo? Dillo. 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 Ponte di Maria Cristina. Dillo. 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 Questa è la plaza della Costituzione Una volta qui facevano le corride E affettavano i balconi Infatti vedete che sono numerati Affettavano i balconi per lo spettacolo Piove Dalla chiesa di Santa Maria Quella che si vede in fondo nella nebbia È la cattedrale Museo di Sant'Elmo Museo Municipale E chiesa Tutto in una stessa piazza 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 è fantastico questo è lo stadio dell'Atletic Bilbao che è la più importante squadra dei Paesi Baschi mai stata in Serie B ma soprattutto si può giocare qui si può essere calciatore dell'Atletic Bilbao soltanto se si è cresciuti o nati nei Paesi Baschi questo è il retro del Guggenheim ma ora finalmente entriamo noi siamo qui adesso in realtà per prendere la funicolare musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il rumore di sottofondo. E siamo saliti qui qua su per vedere la nebbia. C, non ti lamentare. Questo è il classico... Ehm... Grazie a tutti. Grazie a tutti.